bentornati oggi andiamo a disegnare un generatore di funzioni ok cominciamo apriamo keycard zoomiamo cominciamo a posizionare i componenti allora vediamo un po vediamo un po c'ho diversi schemi da poter facciamo questo qua allora prima mettiamo l'integrato e l'8038 vediamo se c'è non c'è figurati tcl vediamo se riusciamo a trovarne uno dopo ricambiamo la sigla dovrebbe essere quanti piedini allora 8038 icl ok è uscito non è uscito mannaggia 7x7 14 piedini dobbiamo trovare l'integrata 14 piedini scusate se il componente non c'è possiamo anche disegnare non lo abbiniamo qualcuno ne abbiamo mettiamo mettiamo proviamo cd qui allora questo è a 16 questo è a 14 non mi piace non mi piace cerchiamo di creare il componente crea che è il componente che è cura io scriviamo 8038 vediamo se ci riesco nuova libreria globale ci scriviamo icl 8038 crea un nuovo simbolo 8038 allora cominciamo a disegnarlo in P aggiungi un elemento di testa ecco qua lo spostiamo più al centro lo mettiamo qua questo lo mettiamo così mettiamoci un pin allora mettiamo qua il nome pin d dg1 numero pin 4 lo mettiamo qua poi l'ingresso non uscita non lo so comunque questo lo so mettiamo uscita vediamo se si può togliere se si può girare così si è sposta tutto stavo facendo bene ok poi un altro lo chiamiamo d dj2 è uscita mettiamo così mettiamo così un po' più grande ok 0.5 0.5 0.5 per farlo più piccolo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ok già così va meglio ok mettiamo gli altri tre numero pin 9 mettiamo qua non so se sono uscita questi sono ingressi usciti ma lasciamo così poi sin numero 2 ok ok mettiamo così l'altro triangolo mettiamo qua quadra triangolare sinusidale tre uscite non so se non devono essere ingressi allora mettiamo l'altro qua v v più ok adesso riesco a girarlo ok 1 meno 11 mettiamo così questo era il 6 ok ok mettiamola 1 poi un altro si chiama sweep 8 l'altro l'altro si chiama fm bs numero pin 7 poi s 1 numero pin 1 numero pin l'altro s numero pin 12 l'altro l'ultimo cap numero pin 10 e lo aggiuntiamo meglio e lo aggiuntiamo meglio si 11 ok salviamo vediamo se riusciamo a metterlo qua scriviamo icl eccolo qua è andata allora mettiamo r resistenza allora ce ne serve 1 2 3 4 5 7 8 prendiamo 8 resistenze 1 ora posizioniamo qua dopo mettiamo in ordine 4 5 5 6 6 5 6 7 e 8 7 poi 8 connettori e mettiamo prima il led mettiamo qua mettiamo ci saranno 3 connettori vediamo se riesco a trovarli ecco 3 da 2 mettiamo 1 1 2 3 ok adesso i potenziometri anche il condensatore polarizzato ce ne sono 1 1 un condensatore polarizzato c 1 2 3 condensatori normali 1 1 2 3 e potenziometri allora ci sono una switch a 2 posizioni ok ok va bene questo mettiamo qua connettore abbiamo messo potenziometri potenziometri eccoli qua 1 2 3 ce ne servono 1 mettiamo 1 2 3 3 4 6 6 6 3 ok adesso andiamo a montare lo schema spostiamo tutto qua ok ci serve il connettore per l'alimentazione, mettiamo qua il condensatore elettrolitico, mettiamo così, condensatore normale, mettiamo così, ok, una resistenza mettiamo qua, poi ci mettiamo il led, questo già lo possiamo unire, zoomiamo un po', allora all'8, ci vuole un po' di tensiometro, mettiamo così, non va, forse ho fatto troppo piccolo questo, spostiamo, facciamo più grande, uno, uno, nove, tre, tre, tagliate, ok salvo, vediamo se si è aggiornato qua, non me lo fa aggiornare, quindi togliamo e ripiazziamo il componente niente dai ok, non riesco a leggere, qua va, qua va, va va va, forse ci devo mettere entrata facciamo ingresso salvo salvo dobbiamo ripiazzare il componente qua va bene, qua non va bene e quindi lo mette sotto quindi questo lo mette così e questo così proviamo ops, salvo cancelliamo riproviamo a ripiazzare il componente ok ok oh è andata allora una resistenza mettiamo qua qua lo uniamo qua c'è un'altra resistenza qua c'è un'altra resistenza allora andiamo, mettiamo così ok mettiamo pure il positivo così lo colleghiamo così si comincia a vedere qualcosa salviamo questi due connettori mettiamo qua questi mettiamo qua mettere qua qua allora mettiamo pure il negativo mettiamo pure il negativo così 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 giriamo ok l'11 negativo ok l'11 ci vuole lo switch eccolo qua ok l'11 portiamo così giriamo colleghiamo e sotto ci mettiamo due condensatori hop zoomiamo cerchiamo di metterli in filo e lo uniamo perfetto perfetto allora 6 7 8 abbiamo collegato allora ci rimane il 4 il 4 qua non c'è non c'è non c'è non c'è un mese minnaggia 5 e questo è il 3 salve 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 ok ok allora togliamo rimettiamoci quello giusto il 4 allora il 4 e il 5 ci vogliono due resistenze allora prendiamo le avviciniamo 4 5 rigiriamo mettiamo 4 e 5 ok questi qua uno qua e l'altro qua ok e questo va negativo positivo ok questo è fatta adesso ci rimane ci rimane ci rimane allora altro potenziometro giriamo va collegato al 12 il 12 sta là lo mettiamo qua 12 12 ok andata questo possiamo impostare mettiamo qua così possiamo mettere le resistenze ci va uno sotto che va a massa ok l'altro sopra qui ci rimane ci rimane qui ci rimane qui ci rimane i connettori di uscita allora il 2 e porca non vanno bene devo spostare uno due e tre lo sposto più giù file salva mettiamolo non niente vediamo lo mette sopra salva dobbiamo rimettere le componenti vediamo che vada stavolta dovrebbe andare ok dovrebbe andare allora il 2 vediamo qua il il andriamo zoom ok allora 2 il il 3 il 9 lo facciamo così lo portiamo sopra mettiamo il 9, a 9 va collegato l'altra resistenza, e questo a negativo, salva. Ok, annotiamo, segno l'impronta, ok annotato, non ci rimane che mettere i valori. Ok, cominciamo a segnare i componenti. Allora, qua ci mettiamo 12,8. Ok, questo ne da 1000 microfarad. Ci mettiamo 25,8. Questa 100,9,104. Potenzialometro da 2k. Questa da 10k. Questa da 200 ohm. Questo potenzialometro da 20k. Questa da 33k. E questa da 100,9,10. Ok, questa da 33k. Questo potenzialometro da 100k. Questa resistenza da 33k. Quest'altra resistenza da 10k. Qua ci scriviamo. Scriviamo, scriviamo, scriviamo 1 dai. Ok, allora. C3 e C4. Questa da 103k. Questo 102k. Salva. Scriviamo. Allora. Allora, i connettori. Mettiamo G2. 3. Allora, mettiamo, mettiamo. E spendo il computer. Allora, vabbè. Il 9 sarà l'onda quadra. Quindi. Scriviamo quadra. Questa X. Quadra. Qua ci scriviamo. Il 2 triangolo. L1. Sinusodale. Unit. Sinusodale. Ok. 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 No. Neola man op trucs facele. Tommaso. No. Il componentia si poteva fare un po' meglio. Un po' più come un grande. Va bene. Ok. 2009090909080. Ok. Questo è tutto. puede acá. It's punk. Tommaso.